Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di The Coach, puntata speciale di Prendi il tuo podio, saluto il mio pubblico! Saluto Vincenzo, Alessia, benvenuti, benvenuti Coach, puntata dedicata al Team Blue. Quindi io saluto l'impostazione, troviamo Emanuele, Patricks, Fabiana e MC Fleva. Sostate voi a decidere stasera chi proseguirà il percorso The Coach e chi invece purtroppo dovrà tornare a casa. Avete già un talento nel vostro team, il vostro super beige che è stato dato da Emanuele, un applauso per Fabio Cacciola! Noi del Team Blue abbiamo deciso di dare il nostro super beige a Fabio perché è un talento grandioso. Grazie a tutti! Fabio sei ufficialmente alla fase sfide nel Team Blue! Complimenti Fabio e vediamo che sale a sette il numero dei talenti all'interno del Team Blue. Buon lavoro Fabio e noi ci vediamo alla prossima fase. Grazie! Grazie a voi! È una puntata molto particolare questa perché avete una grande responsabilità, siete in quattro però, quindi è possibile che ci siano dei pareri contrastanti ed è in questo caso che viene nominato un capitano. Non sarò io a nominarlo ma sarà lui, Davide Paccassoni! Buonasera! Dobbiamo definire il capitano. Il capitano è Patrix. Quindi Patrix è stato nominato capitano del Team Blue. Che vi ringrazio Davide. Grazie a voi, a dopo! Grazie mille, grazie Davide! Iniziamo da Deborah Regis. Ho scelto Deborah perché lei ha una gran forza. Grazie a tutti! Love to you, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh! Che grinta! Brava Deborah! Ma tu hai notato una cosa che ha fatto, a un certo punto, verso la fine, che cos'è fa? Vincenzo sei riuscita a farla ridere, noi volevamo sentire solo questo, una risata contagiosa Deborah ti invito a prendere posto sul primo podio, brava Deborah È il momento di accogliere la prossima artista, lei è Angelica Ciabarra È stata fulminante We will, we will rock you We will, we will rock you I don't want to sleep with you I don't need the passion to I don't want a stormy affair To make me feel my life is heading somewhere Brava Angelica! Angelica ti invito a prendere posto sul secondo podio Grazie a tutti Brava Angelica! Coach, dal terzo talent in poi sarete voi a decidere se effettuare un cambio oppure no, io chiamo la terza artista, lei è Emma Petrelli Casula Emma vai e prendi il tuo podio Promettimi di far entrare il sole Che asciuga le ossa e scalda bene il cuore Anche quando Vivresti solo di notte e di guai Promettimi di non mentirti mai Non prendere in giro Pensando che puoi Non vantarti a caso E non sentirti migliore mai Voci di miele da riascoltare Per risalire E come marinai nel mare E non trovarne i confine Io con te ho imparato a dire Ti voglio bene Grazie Emma! Podio sì o podio no per Emma? Votate adesso! Ecco, in questo caso Patricks è decisivo in quanto ci sono due cambi, quindi due sì e un no Patricks No per Emma Facciamolo forte, l'applauso Che è stata molto brava Secondo me è quasi meglio così per la tua incolumità artistica Devi continuare a crescere perché sei straordinaria Grazie Emma! È il momento di accogliere il prossimo artista, lui è il Cicli Il Cicli, vai e prendi il tuo podio E mi sveglio da un sogno in cui ci volevo stare E guardo il vuoto come se questo lo riesco colmare E vedo che sei tu mentre squilla al cellulare Se mi hai cercato per litigare Fammi un favore, non richiamare Basterebbe lasciare da parte l'orgoglio e la rabbia alla fine Ma ci troviamo davanti da soli e con niente da dire In fondo non voglio ascoltarti se ancora ti trovi una scusa Io no, io sono stacco e non c'è serietà Vorrei che sentissi almeno metà Di quello che sento per te basterebbe Capisci che ti trovi sulla terra dove non contano le favole Qui non c'è persona viva che affermerebbe che ti vuole di più di me Eppure ci troviamo a dare forfè per tornare al back E tornare al back Podio sì o podio no per i cicli? Votate adesso! 3 sì, quindi podio sì per il cicli Patrick, cosa avresti votato tu? Sì, quindi il cicli 4 sì Quindi dovete dirmi con chi volete sostituirlo Avete da una parte Deborah, da una parte Angelica Votate adesso 3 frecce Quindi il cicli, si prende l'applauso Perché il cicli prende il posto sul podio E invito Deborah qui al centro del palco Vieni Deborah Non avevo dubbi Sono... Non avevo dubbi Sono felicissimo per il cicli Sono abbastanza arrabbiata Ma tristissimo per Deborah Sono abbastanza arrabbiata Quindi tu devi essere contenta Guarda in realtà questa rabbia Del tuo valore Questa rabbia che hai dentro È qualcosa che io adoro tantissimo E ti darà la carica per continuare ad essere Certo, non mi fermo qua Fantastica, straordinaria Non fermarti qui Grande Deborah Chiamo un altro talento Il talento di Larisa Preda Larisa vai e prendi il tuo podio I can't stand it You're running around No better on that day I can't stand it Cause you put me down Oh I put a spell on you Because you're mine Because you're mine Eh... Podio sì o podio no per Larisa, votate in questo momento Tutti tranne Patricks, che già vedevo pronto a pigiare il pulsante Tre sì, quindi tre podio sì, quindi Larisa Felicissima, anche Patricks avrebbe votato sì Con chi vorreste sostituirla, votate adesso Complimenti Larisa E Angelica vieni qui al centro del palco Purtroppo dobbiamo fare delle scelte, ma sei pazzesca, continua Quel rosso deve essere un rosso fuoco che ti porta proprio a esplodere Non ti fermare mai Tutti questi applausi sono per te Angelica, grazie per essere su qua con noi Grazie Ed è con questo applauso che invece chiamo qui al centro del palco Larisa E chiamo il cicli Venite pure qui vicino a me Perché è arrivato il momento di dirlo ufficialmente Che siete alla fase sfida del Team Blue Complimenti ragazzi Vediamo che sono nove adesso i talenti del Team Blue Complimenti ancora ragazzi Buon lavoro e noi ci vediamo alla prossima fase Complimenti, grazie, grazie davvero